Si avvicina nel Lazio la tornata elettorale del 12-13 febbraio, giorni in cui si voterà per le elezioni regionali. In attesa dell'apertura delle urne, alle porte di Roma si è tenuto un evento a cui hanno preso parte Vincenzo Romano Spica e il colonnello Sergio De Caprio, noto anche come capitano ultimo, professore universitario scienziato nel campo della genetica. Spica ha deciso di scendere in campo per la lista civica al fianco di Francesco Rocca. Grande attenzione per la salute e l'ambiente, priorità assolute. L'ambiente è parte costitutiva di quella che è la salute non soltanto di noi oggi, ma anche di quelle che saranno le prossime generazioni. La gran parte delle malattie per cui ci ammaliamo e moriamo è dovuta a fattori di rischio ambientali, oltre a quelli comportamentali. È importantissimo tutelare l'ambiente ed è fondamentale però anche trovare dei sistemi, delle soluzioni che siano nel rispetto o nelle norme all'interno del quadro giuridico bellissimo di cui già disponiamo ma che va realizzato, va attuato, va reso concretamente in prossimità del cittadino per cui quelle che sono le strutture, in particolare quelle del Servizio Sanitario Nazionale, debbono essere disponibili, utilizzabili, accessibili per ogni cittadino che si trovi a Roma, che si trovi in altri comuni della provincia del Lazio, in altre città della provincia del Lazio, sul territorio. Il territorio va rafforzato e rafforzare il territorio vuol dire da un lato sì pensare al cittadino e alla salute, da un altro lato pensare e valorizzare l'ambiente. Ora il tema ambientale, come diceva lui, è un tema connesso alle competenze regionali, è forse una delle due principali competenze regionali perché c'è quella sanitaria che impegna la maggior parte della spesa ma che è strettamente correlata, come diceva Vincenzo, con l'aspetto ambientale perché dall'ambiente, dai nostri stili di vita, ne consegue anche la nostra salute. Nell'ambito delle competenze ambientali la Regione potrà godere dei fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se alla Nord Italia la programmazione degli investimenti è stata completata in poco tempo, il Lazio risulta essere molto indietro. Il PNRR è un'occasione straordinaria e la Regione deve trovare il modo non soltanto per veicolare questi fondi ma anche per poterlo fare nella maniera più rapida, semplice, efficace possibile. Alla luce di queste opportunità l'ambiente, la tutela dei rifiuti è un contesto di grande interesse, di grande rilevanza che non comprende soltanto i rifiuti solidi e le questioni di cui si parla nei giornali ma che comprende anche l'acqua. L'acqua è importantissima perché è la prima vittima dell'inquinamento ma è anche l'indicatore fondamentale della salute dell'ambiente e quindi della nostra salute. Nel Lazio ci sono opportunità straordinarie fra cui anche diversi progetti che abbiamo in cantiere e che contiamo poter realizzare con l'aiuto di tutti, facendo squadra, facendo alleanza tra pubblico e privato tra istituzioni e cittadini, seguendo i pensieri, i progetti anche della gente Tra questi ve ne sono alcuni che cercheranno di valorizzare i fiumi, in particolare il Tevere controllare i reflui e anche realizzare delle straordinarie opportunità per recuperare i liquami e poterli riemettere nell'ambiente nella maniera più naturale e più rispettosa dell'ambiente possibile.